Ma da quanto tempo è che non entravamo in questo gioco? Ma che bello Sam! Allora spieghiamo subito Consolini un anno e mezzo fa avevamo fatto una mini serie su questo gioco Chi ci seguiva al tempo aveva apprezzato tantissimo Era una serie super di successo Ora hanno praticamente rifatto da zero il gioco Gli sviluppatori l'hanno reso molto più bello come potete vedere Graficamente è uno spettacolo E tra qualche giorno uscirà ufficialmente su Steam E quindi mi ha detto no dobbiamo per forza fare una serie Assolutamente sì Anche perché adesso il gioco è multiplayer Quindi io e Fede collaboreremo Ci sono delle isole da esplorare Simo può mettere la vela per andare in giro Cioè c'è una roba fantastica da fare E quindi ci abbiamo già che per forza Allora il mondo si chiama Pasqualo Ciao Perché ovviamente è tutto dedicato a Pasqualo E qui io lo dico I più fedeli lo sapranno Ve lo ricorderete per forza Pasquale sta tornando E secondo me Comunque l'hanno visto 600.000 persone nel primo video Quindi alla fine lo conosce tanta gente Pasqualo Ancora me lo nominano Secondo me deve ripartire l'hashtag brutale E dovete distruggere di like se volete vedere la mini serie Quindi rompete il bottone dei like E qui sotto tutti Hashtag Pasqualo che finalmente torna Io nel mentre creo il mondo Dovrò far vedere come ho messo anche difficoltà normale Dato che ci sono diverse difficoltà Credo che adesso dobbiamo invitare la nostra carissima Fere Che puzza e non vogliamo E per di più non ci staremo mai e poi mai In questa zatterina in due in questo modo Secondo me Infatti Però dovrò adattarmi Io per prima cosa appena vedo Pasqualo Ciao Pasqualino Ciao bello Mi è appena passato vicino Ti devo buttare in pasta gli squali Allora Steph Concentrati Guarda innanzitutto che bella la grafica Che belli che siamo noi perché qui è tutto cambiato Però ci ricordiamo quanto è difficile Rapte Esatto Se ti ricordi della nostra prima partita Noi siamo morti come delle pere Quindi vorrei evitare di morire anche in questa prima partita Bravissima Bravissima Siccome adesso siamo in due Devi dimostrare che ne vale la pena di avere la metà dello spazio nella zatterina Fere Quindi questo qua è un testo Io non l'ho mai giocato Quindi per me anche la prima volta che provo i comandi e tutto Perché appunto essendo single player non l'avevo mai potuto giocare E sono molto emozionata Anche se una cosa non mi piace Che cosa? Gli squali Ma è Pasqualo dai Non è uno squalo Qui c'è un'altra cosa brutta Che tu mi hai detto Che in questo gioco Cioè in questa nuova versione Si Si può andare ad esplorare anche sott'acqua Esatto No non ci andremo mai Ci andremo per forza No 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 Vede ci sono incredibili misteri No 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 Nessun mistero È tutto bello Tutto a posto Allora io voglio far vedere nell'inventario quanta roba si può fare Vi faccio proprio vedere velocissimo per farvi capire È pieno zeppo di cose Ma le cose più interessanti secondo me Sono il fatto che si può fare ad esempio la vela per andare in giro Quindi Bellissimo bellissimo Sono davvero degli update importanti È diventato un gioco davvero gigantesco Non so bene quanto costerà Perché noi l'hanno ovviamente dato gli sviluppatori Appena visto che stavo uscendo Ho fatto Oh mio dio la tecci una kiwi Prego scoggiura E sono stati gentilissimi Quindi Non so bene quanto costerà il gioco quando uscirà Ma secondo me vale la pena Perché è davvero davvero bello Un barilozzo Stef Se non ricordo male Quelli danno un botto di risolzze Facci vedere come lo peschi È molto lontano Aspetta Dai Hai preso? No Siamo troppo lontani? Sì Purtroppo sì Che noia Che peccato Uè Pasquale vai via Aspetta ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Sicura Dai no Siamo proprio troppo lontani Accidenti Peccato Quello era strautile Lo so Allora Sto cercando di Allora tu continua a prendere oggetti a scoppio Perché tanto poi me li puoi anche passare Perché possiamo collaborare al 100% Però devo capire Ottimo questo Un pochettino quali sono le prime cose che devo andare a fare Ed è difficile Tavolo di ricerca Quindi questi qua non sono tutti gli oggetti del gioco Vabbè ma è diventato una meraviglia sto gioco ragazzi Letto semplice perché adesso fa anche notte Quindi dobbiamo stare attenti anche a non stare svegli la notte Che poi Pasquale diventa più cattivo Il gancio di plastica usa questo fantastico oggetto per prendere i detriti che galleggiano nell'oceano La pagaia che cos'è? La pagaia dovrebbe essere Ah per remare Esatto Quindi se noi vediamo qualcosa a distanza possiamo anche puntarla Interessante Bello Ok 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 Scusami se sto perdendo un po' di tempo a guardare i vari oggetti fare ma devo capire un pochettino Infatti non ti sto ascoltando troppissimo perché sono molto intenta a raccogliere tutto Qui Steph è fondamentale perché mi ricordo quanto è tosto sto gioco E poi tra un po' ci sarà pure Pasquale che inizia a mordicchiarci la zattera No credo che finché noi non esplandiamo la zattera Ah ok Lui non inizia Il discorso è che se noi non espandiamo non possiamo neanche iniziare a farci le cose per l'acqua per il cibo e così via Barilozzo Barilozzo Prima o poi saremo obbligati a farlo Allora raga io mi crafto delle corde bravissima con quel barile Che ci permette Però sono altri due che arrivano quindi mi raccomando questi prendiamoli perché sono estremamente importanti Mamma mia comunque col gancio non ho perso la mano eh sono proprio bravissimo ancora Eh noi ci sono dovute abituare un pochettino Eh lo so è normale Ma così lo acchiappo Ok sì Facciamo almeno questo Ho aspettato che arrivasse Bravissima io voglio l'altro E l'altro arriva qua L'acchiappo io Perfetto Opla Uh quanta bella roba Ok ci siamo fatti due corde che non sono per niente male anche perché sono tra le cose più utili Adesso dicevo io posso fare il martello da costruzione Ok Che se vi ricordate su raft ci permette di creare altre parti della zattra Ok E quindi ci siamo un po' espansi Ma mi ha mozzicato Pasqualo Ma come ti ha mozzicato Eh sì Ma che cattivo Mi sono buttato per a che pareggia cosa al volo Dovresti essere felice saluta i consolini non fa l'antipatico E a quanto pare si era già corto Eh Steph No vabbè Pasqualo è vero solo se è antipatico Di fronte a noi Che succede? C'è un'isola Un'isola Non abbiamo mai visto le isole noi su raft perché non c'erano Ti ricordi che avevamo fatto anche la piattaforma per arrivare alla fine del mondo? Uh huh Che simpatici che eravamo Andavamo in altissimo Sì Avevamo fatto la piramide La piramide La torre Con Pasqualo Il ponte per la fine del mondo Ti ricordi la Come si chiama? La palma che stava tutto su nella piramide? Sì Sì Che era venerata Era in onore di Pasqualo Vabbè bellissimo Bellissimo Allora Ti dico una cosa Ok Noi teoricamente Da quello che so del gioco Potremmo craftare Un'ancora Monouso Ok Ci basterebbero quattro di pietra Hai trovato della pietra Cara mia No Zero E allora non abbiamo quasi speranza Accidenti cavolo Deve essere molto rara da trovare Sì Mo non so Sai che però Posso rischiare Che cosa? E se io vado nel giro Steph Sì che la può muzzicare Ah no lei è espansa ok Ciao Vai via dai vai via Ciao Pasqualo Comunque diventa tu più feroce È vero e carino eh No prima era più carino Ora è molto Molto arrabbiatino Aspetta Le ripete queste Sì perfetto Dai che troviamo Ok Poi prendo anche la plastica Oh niente pietra Ma non ci credo Ah però quel barile Non possiamo perderlo Ok Perfetto Bravissimo Steph Ho trovato una barbabietola cruda Beh non male Ok Dicevo Fere Allora le pietre sembrano difficili da trovare Nel senso che per ora Non ne abbiamo praticamente mai trovato Anzi non ne abbiamo mai trovato Se io provassi a salire sull'isola al volo Per risalire sulla zattera Sì se non hai paura di far scuola Io ne ho tanta Sinceramente vai Cioè ci provo Sì Devo farlo no Sì Cioè è necessario Strano poi lo vedi lì sopra Sì come se fosse una costruzione Di costruzione Tipo di qualche indigeno Quindi Allora Fere Occhio eh Tu hai un solo ruolo Continua a prendere più oggetti che puoi Ok Ok È importantissimo E io fra poco provo l'esplorazione Della nostra prima isola Fere alla destra c'è pure una zatterina Dov'è? La vedi? Eh vabbè ma è pieno di roba No è pieno di roba Vai Steph Che ansia Ok Ce l'ho fatta Ok È sull'isola Oh mio Dio che ansia Avvisami che non sto iniziando a essere troppo lontano Mi raccomando Veloce Veloce No Devi scendere Devi scendere Sto andando via Sì sto andando via Molto Steph Molto Cioè è finita? Eh praticamente Nuota corri Ce la fai ancora Corri Vede Ho Pasquale dietro? Non lo so Non voglio vedere C'è un barile Ci serve Scusa Oddio Corri Tutto a posto Porca miseria Allora Racconta Dei fiori Io lo uccido Io lo uccido Cioè vuoi morire Steph? No fai Io ero nell'isola e spamavo E Quindi ho preso tutto quello che trovavo Ho tratto solo dei fiori Va bene Va bene Quindi non sono io È il gioco ad essere cattivo Tutto a posto Tutto a posto Steph Abbiamo tutto sotto controllo Sì Non moriremo mai eh No Ma che dici Steph? Quella zatterina però è fantastica Non riusciamo ad arrivarci Eh no Non abbiamo i remi Non avendo i remi Non ci possiamo spostare Allora però almeno riuscire a fare il remo Per arrivare più avanti lì Ci basta uno di plastica E io posso fare il remo Allora Io ne ho tredici Steph Sì sì però non voglio prendere i tuoi oggetti Capito? Ok Quindi voglio farcela con i miei Non per altro ma per conservare i tuoi Molto semplicemente Ok sì così sono di scorta Ci sta ci sta Esatto Opla Perfetto Pietre ancora zero? Zero Oh ho preso un sacco di barilli Perché suppongo che a sto punto O le troviamo là o le troviamo nelle isole Per logica Per logica Certo E niente 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 Sta roba è stranissima Sì Bastante Cioè è proprio strana per essere strana Secondo me Eh sì Quello riesco ad acchiapparlo raga? No Che noia Che noia È difficilissimo come ricordavamo Sopravvivere in questo gioco eh È molto complicato In due mi sembra anche di più Comunque è inutile andare lì Sono due scogli È completamente inutile andare lì Allora Letto semplice Per farlo servirebbero tre chiodi Per fare i chiodi ci servirebbero i rotami E io non ho neanche un rotame Io ne ho tre Io ne ho tre Basta Potremmo fare un letto Sì Ok Buttameli buttameli Provo a fare il letto Che se riusciamo a saltarci la notte Secondo me è meglio Spero che basti uno per tutti e due È bellissimo che ci possiamo passare in materiale Quello che spero anche io Quello che spero anche io Allora Quindi faccio Ah no Ah sì Ah no Dai Steph Ah sì Ok Sotto a posto Sto facendo un letto Vado? Ok Vai Opla Pasqualo Mi raccomando Non so dove ci starà sto letto Però davvero Questo è il nostro letto Straiati Tutti i giocatori devono essere addormentati È come Minecraft Era la cosa più probabile Lo sapevo Era la cosa più probabile Ci ho sperato Ah io lo sapevo che Fereza E' stato un problema Ad avere Aiuto Paura Dai Steph Non ti buttare Ok Tutto a posto Ho trovato una pietra Ho trovato una pietra Ottima notizia E adesso Ragazzi Toccherà sopravvivere al buio Dobbiamo fare un altro letto Esatto E uno l'ho trovato Ma si può trovare o solo nei barili quello? Io l'ho trovato nei barili Non posso dire Sì Mi è sembrato che sia solo nei barili Era col barile È importantissimo Dimmi che c'ho il range Ti prego gioco Dai Ma per pochissimo Sto per buttarmi Ti giuro A farmi mozzicare a Pasqualo Io sto per morire anche di sete Anche io Bene Bene Sta andando tutto bene no? Sì 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 Tutto a posto Bene facciamo una cosa Dimmi Continua a prendere oggetti E buttami tutto quello che hai Ok Provo a fare un craft di sopravvivenza estrema Tieni Tieni E vediamo come vanno le cose Tieni e tieni Ops Ok Non buttare le cose in mare No mi stavo mettendo a dormire per sbaglio Allora Possiamo ampliare di un bel po' Guardate qua Sì che ci sta finalmente Ok A questo punto E cerco anche di capare cose nel mentre Perché sono un bravissimo ragazzo A questo punto Noi dobbiamo fare la roba per sopravvivere con l'acqua Che si fa Con l'epuratore semplice Lo posso craftare? Sì Perfetto Adesso faccio così Lo vado a piazzare abbastanza vicino al letto Così almeno È una zona difesa Ok E a questo punto io cosa devo fare? Devo fare una tazza vuota Che mi costa tantissimo di plastica Riempire con l'acqua salata Metterla qua nel fuocherello Nel depuratore giusto E Pasqualo ci sta mozzicà Dai Pasqualo Non ho ancora fatto la lancia per pizzicarlo Capito? Grazie Pasqualo È antipatico È antipatico E io ti riparo subito qua Perfetto Ok Questa è mia Opla Guarda che bello però Al che oro di luna Cioè c'è un buio pesto Non si vede più nulla Però è fantastico Più forte Nessuno lo può battere Nessuno lo può battere Di nuovo due cose in contemporanea Ok The best Guarda la luna Ok Allora Quindi Teoricamente Sì adesso metto la tazza Faccio riempi con acqua dolce Me la scolo E torno ad avere un pochino Ok quindi Cosa devo fare? Ti ho messo a prepararla Ok A quel punto devi craftarti una tazza Che ti craftero io Ok Perché ho dato tutto a te Quindi non lo so Se mi avanza qualcosa Contenitore piccolo Proprio tazza Hai uno di plastica? Sì ne ho quattro Dammene uno Tieni Perché Mi ho dato tutti e quattro Mi si è rotto il gancio Anche a me sta per rompere Quindi Cavolo Parsimonia Allora ne creo un altro per te L'ho già creato di riserva E ci serve Fare Una tazza vuota Quindi ci serve un 3 di plastica Focalizzati sulla plastica Perché ti servirà te per l'acqua Ok Ok Mi raccomando concentratissima Allora lì c'è il barile Ci penso io No lo voglio io Ma il freddo non cambia nulla La pelle è pure mancato Quindi sinceramente ringrazia Ma Steph Sì? Hai notato? Che stai insieme a piovere Che c'è una tempesta Che c'è una tempesta E che c'è il mare mosso Perché? Raga Cioè io inizio a E mi raccomando il mare A vedere Cioè a vedere il mare Che un De Giova Sempre di più E detto dai Un effetto grafico Non sarà così vero Non sarà E inizia a piovere Hai notato che Anche il gancio è diverso? Cioè sta volando diversamente il gancio Certo perché ci sarà un vento incredibile E ho capito Ma quanto hanno fatto bene Sto gioco Scusami eh Cioè hanno lavorato Per più di un anno e mezzo Steph È normale Eh ma Mò ci fanno morire pure Vieni qua Bella plastica Sono stati bravi Sono stati molto bravi Ho apprezzato tantissimo il gioco Un corno bravi Quando ero appena uscita Uscito E non c'era nulla Quindi figurati quanto l'opprezzo Ora Barilozzo Barilozzo è mio No dai non scappare Raga non si può sopravvivere così però È troppo difficile per noi Però aspetta Rubo Col mare mosso Ste ne andrà a paspolo Secondo te Magari vado a dormire Dici ah vado a riposarmi Perché c'è brutto tempo Non maniere mal di testa Soffro il mare Beh giuro Ci manca solo lui in questo momento Assolutamente Ok allora Credo di poterti creare la tazza Sto morendo di sete Sto morendo di sete totalmente Te la creo Tieni Veloce Prendila Adesso Perché Mira bene la tazza Dov'è la tazza Non la vedo più È qui Presa Mi fa solo sdraiati Non la posso prendere Davvero Dimmi che non abbiamo tratto il primo bug del gioco Aspetta Mi sa proprio di sì Aspetta 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 scusa un attimo Rimuovo il letto Esatto Bravissima Tanto per ora non Lo stavo per dire Aspetta Mi tocca spostarlo per forza Lo butto lì Tazza vuota Ok Riempi con acqua dolce Esatto E bevi Ok Sì il problema è che io sto iniziando a morire di fame Eh ho rischiato tantissimo però accidenti Ok Un bel barilone Perfetto Adesso però bisogna continuare a riempire d'acqua E rimettere a fare Capito Costantemente Noi dobbiamo continuare a bere Però con l'acqua abbiamo risolto Adesso Il problema principale sta diventando il cibo E il fatto che c'è una cavolo di tempesta di notte E sono Che spero passi molto molto velocemente Che spero passi molto molto velocemente Ok Ok Che ansia Ok No è bruttissima sta tempesta Mi soffrono un'ansia Steph Lo so Cioè noi indifferenze Sai cosa ti dico? Che ci fermiamo così Lasciamo i consulini in ansia Come noi Non sapranno se sopravviviamo come noi E niente Quindi sopportate la serie tantissimo Se volete vederla continuare È davvero difficile sopravvivere Ma il gioco è fatto benissimo Quindi noi lo continuiamo più che volentieri E ci vedrete soffrire tantissimo Esatto E ci vedrete sopravvivere